Hola a tutti ragazzi, io sono il vostro Luke e oggi siamo qui finalmente a parlare di un progetto davvero importante che è stato aperto Come vedete a destra ragazzi, finalmente reggete la scoreboard con lupacchiotticraft E' stato aperto finalmente il server basato sul Bryson 1.12 come avevo già detto in qualche video fa Qui dando parto non le battute in chat, ma tralasciando questo ragazzi, vi ricordo Bryson 1.12 SP Perché vedete già che ci sono 9 persone online, che mi meraviglia perché comunque ragazzi è mezzogiorno, è ora da pranzo, quindi è un po' strano che ci sia qualcuno Comunque, ci sono delle persone online perché ho spammato in anteprima sul mio canale Telegram l'IP del server Quindi ragazzi per ricevere diversi aggiornamenti riguardanti il server, mi raccomando seguite il canale Telegram che trovate in descrizione E non siate pigri, cliccate la descrizione e guardatela, soprattutto già che siete in quella zona lasciate anche un bel like per il progetto Detto questo ragazzi, prima di introdurre il resto del video, volevo parlarvi una cosa importante Ossia, ragazzi, non iniziate con le proposte da staff, le richieste, eccetera Perché, come ho già detto sul canale Telegram, su Minecraft verrete mutati Prima con mezz'ora, poi un'ora e se insistete, ragazzi, anche un giorno Comunque, sono facendo domande in chat, però adesso non rispondo perché ragazzi ho il bloc note in mano E ho tutti i punti da elencare, quindi ragazzi devo stare molto attento Chiarendo questo fatto del no staff, quindi non vi proponete, ragazzi, vi ripeto Saremo io e David ad aprire i provini quando sarà il momento, quindi non vi proponete Comunque ragazzi, oggi andremo a parlare di molte cose, tra cui aggiornamenti, comandi particolari che non ci sono su nessun server come questo E soprattutto dei VIP, perché dei VIP? Volevo parlarne in un altro video, però ragazzi è successa una cosa che non mi aspettavo Uno di voi, che ha avuto appunto l'anteprima su Telegram, SharkDark, ha acquistato il VIP da 10€ Perché voglio parlare di questa cosa? Per due motivi Uno, per il gesto che ha fatto Il secondo, come l'ha fatto In che senso? Il gesto, ragazzi, lo apprezzo davvero molto perché dà fiducia al nostro progetto Di portare appunto avanti questo server Mentre la modalità, ragazzi, è perché ha pagato con PaySafeCard Qual è la differenza? Ragazzi, se noi facciamo slash buy, che è appunto un bel comando Il comando Noi possiamo vedere che ci sono i VIP, i comandi, le key e l'economia In questo caso parliamo di VIP Trovate qui la lista lupo mega, lupo beta e lupo alfa Che è il più costoso Se per esempio noi clicchiamo su lupo mega Porterà qui ad un link Aprendolo, ragazzi, vi porta sul sito ufficiale del nostro server E cosa farete qui? Sceglierete appunto il vostro VIP che volete Inserendo il vostro nick di Minecraft E fate un pagamento tramite Paypal Però, voi vi chiederete Perché Shark l'ha fatto tramite PaySafeCard? Ragazzi, per fare tramite PaySafeCard un pagamento del VIP Dovete contattare me o David su Telegram Ed inviarci il link della PaySafeCard E noi manualmente vi setteremo appunto il VIP Quindi ragazzi, sarà davvero molto importante questo passaggio manuale Ovviamente noi preferiamo il pagamento tramite Paypal Perché è più veloce e più comodo Detto questo, ragazzi, c'è anche qualcuno che è venuto nel server Voglio aprire giusto questa parentesi A fare un po' lo spiritoso Dicendo che ha comprato il VIP e non gli è arrivato Però ragazzi, siccome il sito è basato su un sistema automatico È impossibile che gli è arrivato il VIP E poi ha minacciato le denunce Però ragazzi, sono i classici bimbi minchia Che non sanno a che fare Una cosa importante che volevo ancora dire È che molti mi hanno chiesto Raga, Luke, ma quando metti le mobarene? Raga, le mobarene saranno disponibili molto più avanti Nei vari aggiornamenti Solo per i VIP Perché questo? Perché le mobarene permetteranno di fare molti soldi Ovviamente non tantissimi Però molti soldi con fronte a una semplice miniera E di conseguenza non metteremo solo i VIP Inoltre ragazzi, per chi ha dei consigli Vuole sapere i prossimi aggiornamenti O qualsiasi cosa Potete contattare su Telegram Sia me o a David, ripeto, con dei consigli Oppure scrivete direttamente nei commenti Inoltre, vi ricordo ancora una volta ragazzi Seguite il canale Telegram Perché è davvero importante Per i vari annunci che faccio Se ci saranno eventi speciali Eventi KIV Dove dropperemo picconi Roba costosa Eccetera eccetera Quindi vi raccomando Rimanete Molto Aggiornati Parlato di questo ragazzi Volevo presentarvi una cosa davvero molto figa La prima è appunto Il Warp VIP Dove potrete trovare appunto Tutta la lista di VIP Con tutti i kit che hanno E tutto quello che mettono a disposizione Quindi qui potete vedere Ad esempio il VIP Omega Che mette a disposizione Il comando Fly Hut Un milione e mezzo E duecento token Ovviamente Un milione e mezzo E duecento token Verranno dati solo Nel momento dell'acquisto E' riscattabile ogni due giorni Ed è questo il VIP Molto semplice Anche se Devo dire la verità Un'efficienza 8 Partendo da efficienza 4 Quella di base Credo che sia davvero buono Poi Andando al Warp Info Potete vedere Tutto quello che vi serve Ossia un po' Come funziona Inizialmente Che cos'è il server Su cosa si basa Qui potete vedere le regole Facendo un semplice comando Slash regole E vedete tutto quello che potete E non potete fare Inoltre facendo Slash comandi Vedrete anche I comandi principali Così chi è pigro E non ha voglia Di andare qui al Warp Info Vedrà direttamente In quel modo Poi troverete Il Warp Shop Che vi permette Di enchantare Diversi picconi Quello che avrete Tra le mani Non lo so Con i token Ragazzi per guadagnare i token Ci sono diverse opzioni Ossia Perdonatemi Il calo di voce Ogni 5.000 blocchi Non voglio errare Perché forse faremo Questa modifichina Ma non siamo sicuri Ogni E per saperlo Rimanete attivi Su Telegram Mi raccomando Ogni 5.000 blocchi Daremo 5 token I token Sono scambiabili Con i cream blades Quindi cliccando qui Ovviamente io non ne ho Di token E questi cream blades Potete Cream cream Non mi ricordo mai Come si chiamano Ecco qui Magma cream Vedi che sono ignorante Comunque potrete appunto Scambiarli Con i vostri compagni Oppure venderli A vostro plot Eccetera Perché raga Come sapete Ci sta Anche i plot Basta fare P auto Ovviamente io Già ce l'ho Quindi mi dirà Dove vuoi andare Se tu già ce l'hai Basta fare ph E voilà Avete il vostro plot Che potete gestire Come volete Facendo shop E tutto quello che volete Ritornando ragazzi Allo spawn Andiamo al warp Crades Cosa sono le crades Ragazzi Sono delle key Acquistabili ancora sul sito Che adesso andiamo a vedere Tutti insieme Eccole qui Che costano La crazy 1 euro l'una Mentre la galactic 2 euro Perché questo prezzo Ragazzi Comunque vi ripeto Per sostenere il server Ci vogliono big money E soprattutto Perché danno davvero Dari cose Fighissime Oggi andiamo a vedere Solo la galactic Poi se volete Dere le cose più Approfondite Vedremo insieme Allora la galactic Offre 5 blocchi di smeraldo Voi direte Lucco ma fanno schifo No raga Non vorrei errare Ma hanno un valore Intorno Ai 100.000 All'uno All'incirca Non vorrei sbagliare Poi c'è il piccone galattico Che è Un'efficienza 15 Un Unbreaking 25 Ed equivale Appunto al VIP beta Quindi non è per niente male Poi si ha la possibilità Di vincere 10 milioni Una spada galattica Che è una spada Molto semplice E infine Un milione Come vedete Il piccone ragazzi Ha la possibilità Del 5% Questa del 40 Perché comunque Trovate 5 blocchi di smeraldo Ma valgono qualcosa E non è male Vi ripeto raga Tutto questo è acquistabile sul sito Poi per chi vuole Ci sono anche i pacchetti da 10 Per esempio Se voi volete fare un mega spacchettamento Magari siete degli youtuber E volete fare un mega spacchettamento Raga potete farlo tranquillamente Prendendo un pacchetto Ragazzi Avremo sta parentesi Visto che l'ho toccata Tra virgolette Non metterò Targhette youtuber Almeno per il momento Detto questo Un altro comando Che abbiamo aggiunto Molto importante ragazzi È Slash Zaino Ebbene si Come nessun server L'abbia mai fatto Ho aggiunto Il comando Slash Zaino Come funziona lo zaino È come un ender chest Qualsiasi cosa Che mettete al suo interno Non la perderete Mai 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 Proprio no In che senso Se noi andiamo tutti insieme No Al warp PvP Potrete vedere Qui c'è una bellissima arena Che Una volta scesi Ovviamente qui non carica Perché signore Eh Troppi chunk C'è una bellissima arena Dove potrete morire Ovviamente Perché se no Il pvp a che serve Qual è il problema Ragazzi Che Se volete salvare Il vostro kit Eccetera O lo mettete A vostro plot O nell'ender chest Perché semplicemente Avendo lo zaino Quando morirete E perdete la roba Spero che abbiate capito Perché se no Non lo so Comunque Un'altra domanda Che fate sempre Ragazzi È il ts Su quale ts Ci appoggiamo Per il momento Siamo sul ts Di medicancio Che trovate in descrizione Però ragazzi Credo che Ci sposteremo Su un altro ts Poi adesso vedremo Non so come Medicancio Ancora non ho parlato Del server Vedremo un po' Cosa fare Infine Le miniere pvp Perché ragazzi Molti mi chiedono Luke Ma quando aggiungerete Queste cavolo Di miniere pvp Ragazzi Le miniere pvp Saranno incrementate Dopo la miniere a z Se io faccio Slash ranks Potete vedere Quanti soldi Servono per rancare E dopo Essere rangati Alla z Ci saranno ulteriori rank Dove includeremo Il pvp Perché lo includiamo dopo Perché ragazzi Io so che Molti bimbi minchia Non è per cattiveria Si divertono solo A killare Quindi rovinerebbero Il gioco a tutti Se lo metteremo È i primi rank Quindi di conseguenza Abbiamo deciso Di implementarlo dopo Poi magari ci saranno Aggiornamenti Eccetera Ma vi ripeto Per la centesima volta Per sapere Se ci sono aggiornamenti Rimanete attivi Sul telegram Detto questo Ragazzi Non so se ho dimenticato Qualche punto Molto probabilmente Si Semmai Se avete qualche domanda Di chiedere Nei commenti Oppure su telegram In privato E poi Nel gruppo telegram Pubblicherò La risposta Detto questo Ragazzi Mi raccomando Lasciate like Commentate il video Condividetelo Con tutti i vostri amici Per farle entrare Server Iscrivetevi al canale E ci becchiamo Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti